Radio Jimmy Network presenta Pomeriggissimo 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 Il pomeriggio giovane di Radio Jimmy Network Tecno, Dance, House, Fribal, Arco Pomeriggissimo Pomeriggissimo Con Tino Balera Pronto? Cos'è? Pronto? Che parla? Ciao belbambino, benvenuto al meraviglioso zocco premi del pomeriggissimo Sei pronto per indovinare il film misterioso? Sì, pronto Eccoci qua, allora belbambino, attenzione, ascoltiamo il filmato Fammi sentire le tue calde labbra sulla p***a Stop! Hai capito di che film si tratta? No, mi spiazzi, non è il titolo esatto Mi sai almeno dire cosa stanno facendo i due attori protagonisti Sì, via con lo spezzone Ecco Come ti ho detto ancora, dai Oh, aspetta Cos'hai detto? Ah, io dici che sei troppo stito in una macca Ah, ho capito Ah, ti ho capito Sei sdraiato sulla macca Bravo bambino, ti stai rilassando, eh? Ah, ho capito, ho capito L'ho riconosciuto io lui, sì E Augusto, me lo son fatto nel 46 Augusto, ti ricordi di esserti pompato una bellissima signora che si chiama Rossella? Sì Adalasio, ti ricordi? Sì Oh, che rimembranze, eh? Allora, attenzione Cosa stanno facendo i due attori protagonisti? Sì Via col tempo Stanno scu? Sì 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 Stanno scu? E te ne riechi Bellissimo Indovina Indovina Il film Misteriuso Chi è? Ciao bella bambina Ciao carissimo Senti ma non sei tuo marito Umberto? Il mio marito Umberto Vediamo dove è Pronto? Pronto? Aspetta un secondo Bel bambino Allora Se un zocco in corso Devi indovinare Il film misterioso Ti faccio sentire lo spezzone Prego Rezia Oh 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 Che film è? Oh Ecco Oh Ancora dai Guarda Stop Allora Cosa stanno facendo? Stanno scu? Bravo 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 E il titolo del film è Dai Il titolo del film Dai Allora il titolo del film è Ficcalo tutto ben Bravo 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 Ma il sottotitolo è V? Come? Il sottotitolo è V? Il sottotitolo? Viva 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 Aspetta addio Assa la vista No Vista la assa No 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 Viva 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 la figa Bravo Grandissimo Mi sai dire anche la misura del pene del attore principale? La misura del pene? Sì Ti faccio E c'è bisogno di vedere quale attore? Ti faccio sentire un attimino un pezzettino del film Prego Rezzi Stop Allora? Eh beh sarà a 30 cm Senti Umberto hai vinto un vibrafallo Buontempi a 7 velocità Ah perfetto lo do a un'amica mia Cosa ne fai? Cosa ne fai tu del vibrafallo? No io no Lei lo usa perché Perché è vedova E dove se lo mette? Se lo mette in cug... Cugina No Giurriti Cuglione Io ti spacco la faccia Io ti spacco la faccia Non ti amarei più